Con l'inizio del mese di novembre sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria in via Cavour ad Alessandria, una conclusione salutata positivamente dall'amministrazione comunale che ha effettuato un sopralluogo nella zona. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione della via nel tratto compreso tra Corso Cento Cannoni e Corso Teresio Borsalino. Nella zona compresa tra Corso Cento Cannoni e via Mondovì sono stati realizzati interventi di recupero dell'area che è stata interdetta alla circolazione stradale. In particolare sono state recuperate le lastre di granito adiacenti fabbricati esistenti ed è stata realizzata su tutta l'area pedonale una pavimentazione di calcestruzzo con superficie a porfido. Sul nuovo marciapiede da Corso Teresio Borsalino in via Mondovì sono state introdotte delle aiuole ed è stata creata un'alberata di 12 piante a medio fusto. La spesa complessiva ammonta 320 mila euro. Condanna a nove mesi per stalking per l'alessandrino 34enne Luigi Romeo che per lungo tempo ha portato la sua ex compagna all'esasperazione. Una volta lasciato l'uomo ha infatti iniziato ad assumere comportamenti vessatori e ingiuriosi con minacce, insulti e continue telefonate. Le molestie, oltre che psicologiche, sono presto diventate anche fisiche. Collesioni causate dal lancio di una bottiglia, agguati e appostamenti e un telefono strappato di mano per impedire che la donna chiamasse i carabinieri. Leggendo gli atti è emerso che Romeo costringeva la compagna a vivere in un perdurante stato di ansia e di paura, a temere per la propria incolumità fisica e a modificare le proprie abitudini di vita. Cambiamo argomento, è stata firmata dal sindaco Giorgio De Mezzi una nuova ordinanza per potenziare i controlli sulla raccolta dei rifiuti a Casale Monferrato. In alcune zone della città è infatti evidente una situazione di crescente degrado igienico ambientale, derivante da operazioni di deposito dei rifiuti in difformità dai provvedimenti esistenti e in osservanza delle disposizioni sulla raccolta differenziata e in materia di deiezioni canine. Per questo si è deciso di affiancare agli agenti di polizia locale un contingente di personale qualificato, un nuovo team di sceriffi dei rifiuti che sarà operativo nell'arco di sei settimane. Attualmente chi infrange il regolamento rischia una multa da 25 a 500 euro con la nuova ordinanza. La cifra è stata raddoppiata. Intanto il teatro regionale Alessandrino ha comunicato le prossime variazioni del cartellone 2010-2011. Lo spettacolo Mi scappa da ridere con Michel Unziker previsto al Teatro Comunale di Alessandria l'1 e il 2 dicembre viene rimandato a data da destinarsi. Aria precaria con Ale Franz in programma il 12 dicembre viene presentato al Politeama di Via Verdi in quella stessa data con una replica pomeridiana alle 17 e una serale alle 20.45. Il Lago dei Cigni in programma il 20 dicembre viene presentato al Teatro Sociale di Valenza in quella stessa data. Stessa location per le allegre Comari di Windsor con Leo Gullotta già rimandato a martedì e mercoledì 1 e 2 febbraio 2011. E così per il momento dall'Alessandrino è tutto. Noi vi ringraziamo per l'ascolto. La linea va allo studio. La linea va allo studio.